Toto Burkileri comincia la nostra stagione per il Gela, è chiaro che non c'è due senza tre perché avete vinto due campionati consecutivi con lei in panchina e adesso ci aspettiamo che si vinca anche il terzo oppure ci accontentiamo di una salvezza tranquilla però conoscendo il presidente Duccio è chiaro che il Gela non vuole fare la comparsa in questo campionato difficile Intanto i campionati vinti vanno parte del passato noi siamo qua nel presente con grande protezione per il futuro quello che si è fatto precedentemente rimane nei ricordi degli annali della gente, dei tifosi, dei giornalisti però lei non deve dimenticare che quando si finisce un campionato e siamo stati vittoriosi c'è stato un grande applauso, se ne è andato, ora deve di nuovo ritornare Però è pur vero che Gela ha fame di vittorie, ha fame di successi e è chiaro, sottolinevamo, che il presidente più volte ha detto a me non piace che il Gela faccia la comparsa ma ambisca qualcosa di importante Sì, ma più si sale di categoria più diventa più importante sotto il punto di vista tecnico-tattico, sull'organizzazione di una squadra ci sono tante le motivazioni, gli interessi di lavoro ci sono date mille cose, però è chiaro che noi veniamo da due campionati siamo stati protagonisti per due anni per l'ambizione del presidente, che sia giusto perché penso che il nostro primo tifoso è una persona molto ambiziosa, una persona con la quale ci tiene noi siamo qua anche per lui se non ci fosse presidente non sarebbe facile fare caccia a Gela E per la città? Soprattutto, però, la città è una città importante una città che ha grandi motivazioni forse noi siamo stati bravi diciamo come disciplina sportiva a riuscire a dare un sorriso, una gioia, una felicità anche, diciamo anche passeggera però siamo stati noi, insomma, a dare qualcosa di importante in una città in questo momento oltre al cielo che grigio anche, insomma, tutto l'aspetto tutto l'aspetto, diciamo, economico quindi è stato un momento molto difficile Se vogliamo voi ogni domenica regalate un sorriso, sostanzialmente Sì, io penso che è giusto che anche i ragazzi riescono a, diciamo così, a catechizzare e nello stesso tempo a metabolizzare quello che cosa vive una città nel quotidiano quello che cosa c'è nel giornaliero, no? Noi viviamo in una situazione diversa rispetto alle altre città e questo lo devi sentire sulla tua pelle lo devi sentire nel quotidiano devi vedere il movimento di una città però questa città merita questa città merita grande soddisfazione merita di, sotto certi punti di vista anche sotto l'aspetto sportivo di alzare la testa, come si solture, no? Io penso che ci sono tutti i presupposti per farci alzare la testa